Buongiorno e bentrovati. Allora come forse sapete il 16 agosto è scomparsa Renata Scotto e devo dire che senza nulla togliere la grandezza dell'artista mi è abbastanza sorpreso che tanti giornali ne abbiano dato notizia in una fase storica in cui mediamente quando un grande artista passa a miglior vita viene bellamente ignorato dalle testate di stampa, dalle televisioni e dai medi in generale. Esattamente come quando ho fatto il video sulla scomparsa di Angelo Badalamenti ci tengo a dire che questo non è un coccodrillo perché non è il mio stile farne e quindi dico che la signora Scotto non era fra i miei tre soprano preferiti in assoluto ma questo ovviamente nulla toglie alla grandezza dell'artista. Prendo quindi spunto da questa notizia per parlarvi di un paio di aspetti legati alla lirica in particolare degli anni che furono. Renata Scotto nasce a Savona e madre natura decide di regalarle una voce molto 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 bella, una voce che Renata Scotto si trova in gola quasi senza aver fatto nulla, intorno ai 14, 15, 16 anni, già canta e già viene notata per i suoi doti vocali. Tanto è vero che poi questa cosa la porteranno a debuttare molto giovane, a 19 anni, e a 21 anni era già in scala. Dopodiché Renata Scotto, che era una donna molto intelligente, capisce che quello che le ha dato madre natura non è sufficiente, capisce di avere dei problemi tecnici o quantomeno dei limiti tecnici se non dei problemi perché lei cantava in maniera del tutto naturale, insomma aveva avuto alcuni insegnanti di canto che l'avevano un pochettino impostata, ma insomma il grosso lavoro l'aveva già fatto madre natura per lei. Eppure pensate che dopo aver debuttato in scala, quindi in una fase in cui la sua carriera poteva essere veramente spianata e in grande ascesa, decide invece di fermarsi per studiare e questa è una cosa che le fa incredibilmente onore e che dovrebbe essere un insegnamento per tutti quelli che fanno la musica lirica, ma mediamente di tutti quelli che studiano musica. Nei primissimi anni 50 la sua carriera decolla, in particolare quando sostituisce Maria Callas in una famosa tournée della scala in Gran Bretagna. Questa cosa naturalmente le dà una visibilità internazionale pazzesca e i contratti cominciano a fioccare. Renata Scott è un'interprete raffinata e molto meticolosa nella preparazione dei personaggi e molto rispettosa di quello che c'è scritto sulla partitura. Forse è uno dei primi casi di un soprano, soprattutto a quel livello, che pone grande attenzione alla parola e grande attenzione all'espressività della parola, oltre che ovviamente delle notte. E quindi dopo aver messo in cantiere una tecnica decisamente più ferrata, in particolare grazie agli insegnanti presentati dal suo amico Alfredo Krauss, la carriera internazionale di Renata Scott sembra non avere più ostacoli. Anche se i suoi più feroci detrattori, perché poi lo sapete, questo comunque è un paese di Guelfi e Ghibelli, di coppie Bartali, di fascisti e comunisti e di tutti gli paragoni che volete fare, che si è sempre diviso. Nella lirica era famosa la divisione fra i supporter della Callas e quelli della Tebaldi e quindi essendo la lirica comunque un campo che da sempre crea grandi tensioni, grandi dissidi, grandi litigi, ne vedremo più avanti anche uno molto importante che guardò proprio la signora Scotto. Quindi i suoi più feroci detrattori, perché anche lei come tutti ha avuto dei detrattori, dicevano appunto che in realtà, nonostante la bellezza della voce e nonostante questo periodo di studio intenso che aveva fatto, la parte tecnica ritenevano che non fosse ancora veramente compiuta, ma questo a noi interessa relativamente poco, soprattutto quando di un artista guardiamo la storia, la completa storia e non semplicemente una fase della sua carriera e soprattutto quando la vediamo tempo dopo, quindi facile parlare con il single poi, come facciamo un po' tutti, e non magari nel momento in cui si sta verificando quella fase dell'artista. Quindi i primi anni 50, come detto, la carriera di Renata Scotto esplode veramente e comincia a cantare in tutti i teatri più importanti, italiani ed esteri. Teniamo conto che stiamo parlando del periodo d'oro della lirica, periodo nel quale le produzioni liriche che si facevano erano 20 volte quelle che sono oggi. Questo cosa comportava? Che qualunque buon cantante riusciva a fare una buona carriera, ma quella che fa Renata Scotto non è una buona carriera, è una signora carriera. Uniteci poi il fatto che è vero che le produzioni liriche erano tante di più, quindi le possibilità per i giovani cantanti erano infinitamente di più di quelle che ci sono oggi. Ma tenete anche presente che era il periodo in cui c'era una quantità di belle voci in tutti i registri, in particolare per quanto riguarda il soprano, che veramente immediatamente si veniva accostati a questi grandi, grandissimi nomi e quindi se non eri veramente un cantante di livello non passavi quella soglia di sbarramento. La carriera della Scotto ha come dire un pre 1970 Vespi siciliani alla scala e un post 1970 Vespi siciliani alla scala. Qual è il fattaccio in questione? Renata Scotto è chiamata a cantare i Vespi siciliani, un'opera tra l'altro molto impegnativa per la soprano, non in un teatro qualunque alla scala e non in un giorno qualunque ma all'apertura della scala, quindi come dire l'evento lirico più importante del mondo possiamo dire. A questa prima della scala è invitata anche Maria Callas come ospite d'onore nel palco reale eccetera eccetera. Ovviamente essendo gli anni in cui Maria Callas era ancora nel cuore di tantissimi sostenitori, anche se erano diversi anni che non cantava più in scala, la sua presenza in teatro crea ovviamente scompiglio e le sono rivolte una serie di attenzioni, di applausi, di ovazioni che infastidiscono apparentemente Renata Scotto che era invece la prima donna che doveva cantare quella sera. Qual è il fattaccio? Che Renata Scotto rilascia alla rivista Stop, che era una rivista diciamo di gossip, potremmo dire oggi, di quegli anni, un'intervista dove attacca Maria Callas in maniera dura, in maniera anche abbastanza sotto la cintura andando a toccare anche la sua vita personale oltre che quella professionale, insomma. Quindi diciamo che fa un gesto non particolarmente amichevole e anche decisamente una caduta di stile per un artista del suo livello. Tra la prima e la seconda recita, questa intervista esce e scatena un putiferio. Tenete presente che molte volte diciamo del mondo della lirica di oggi, è oggi ci viene tutto, nessuno contesta più niente, quelli erano anni in cui succedeva l'esatto opposto. Il pubblico seguiva con fin troppo vigore e fin troppo calore le questioni della lirica. Spesso c'erano contestazioni feroci da parte dei lugionisti. I lugionisti, lo dico perché non lo sapesse, sono quegli spettatori del lugione, quindi la parte più alta del teatro, storicamente la parte più popolare, diciamo così, che negli anni si sono arrogati il diritto di essere i veri intenditori e i veri custodi della tradizione lirica. E quindi hanno decretato i trionfi e i fallimenti di tantissimi cantanti. Quindi quando esce questa intervista i lugionisti ovviamente sono imbufaliti e una loro delegazione va da Renato a Scotto per chiedere spiegazioni di questa intervista. E lei che passata la prima avrebbe potuto smentire o dire come a volte capita che la giornalista in questione aveva malinterpretato certe sue frasi che erano state stravolte e spesso succede nelle interviste tante volte. E questo soprattutto nei titoli, molte volte si fa un'intervista e poi già dal titolo si capisce tutt'altra cosa e poi anche leggendo il corpo dell'intervista ci sono delle frasi che vengono decisamente decontestualizzate oppure travisate. Renata Scotto invece non solo non rinnega niente di quello che ha detto ma rincara perfino la dose dicendo che anzi la giornalista aveva tagliato delle altre parti dell'intervista. Come dire ne aveva detto e anche di peggio e non sono state riportate. Questa cosa comporta per Renata Scotto una contestazione feroce per sua sfortuna abbinata al fatto che la sua performance in quelle due recite non è particolarmente memorabile. Ha alcune piccole defiance e sbagliare un acuto o sbagliare un passaggio o essere calanti su una cadenza. Se può esserti perdonato da un pubblico tra virgolette amico o da un pubblico che ti supporta ovviamente quando hai una buona parte del pubblico contro la cosa si tramuta veramente in una contestazione feroce. Ora al netto di quello che fu quell'episodio probabilmente fu una caduta di stile da parte di Renata Scotto ma per amore di Dio tutti sbagliamo era un essere umano anche lei e ancorché a mio modo di vedere abbia sbagliato. Sbagliare succede insomma. Però la cosa più importante è che quell'evento quindi la contestazione unita ripeto a una sua non performance vocale ineccepibile segna praticamente la fine del suo rapporto con la scala. Però come spesso capita nella vita si chiude una porta e si apre un portone. Renata Scotto comincia a cantare negli Stati Uniti e ha una collaborazione particolarmente stretta e particolarmente fortunata col Metropolitan che diventerà veramente la sua la sua seconda casa soprattutto considerando che lei poi si trasferirà negli Stati Uniti. Canta centinaia di recite al Metropolitan e in altri grandi teatri naturalmente ma la cosa più importante che lei ha sempre detto in tante interviste è che l'allontanarsi dalla scala in un certo senso per lei è stata una liberazione. Ossia lei era arrivata al successo molto molto giovane però a suo modo di vedere i ruoli che le venivano proposti erano sempre gli stessi e un numero molto limitato di ruoli. Negli anni americani invece Renata Scotto amplia enormemente il proprio repertorio arrivando a contare ben 60 ruoli ributtati. Gli anni successivi quindi saranno pieni di successi in tantissimi teatri. Non solo nella fase più avanzata della sua carriera Renata Scotto si dedicherà anche alla regia e poi ovviamente alle masterclass e all'insegnamento come fanno tantissimi cantanti. Saluto quindi con grande rispetto la scomparsa di Renata Scotto e invito soprattutto i più giovani di voi andarvi a ascoltare. Qualcuna delle sue interpretazioni trovate moltissimi sui dischi e moltissimo su Spotify, su YouTube ovviamente. Quindi adesso rimbarazzano la scelta. In particolare io credo che Madame Butterfly sia stato uno dei ruoli che Renata Scotto ha fatto in maniera più alta dal punto di vista artistico e vocale ma troverete anche ruoli insospettabili e ruoli soprattutto meno famosi con cui la sua voce si è cimentata. Lo dico i più giovani perché probabilmente i meno giovani non ne hanno bisogno però potrebbe essere l'occasione anche per loro di andare a rispolverare qualche vecchio disco e di onorare comunque così una grande grande artista. Alla prossima!